Gol e spettacolo nella ventunesima giornata. Il Bari vince e scappa, il Monopolis tende la Turris nell'extra time. La Virtus Francavilla espugna la Calabria e il Palermo si fa rimontare in casa. Una sfortunata autorete di verde lancia il Bari. Mignani dopo Pagani vince anche al Rocchi di Viterbo con un'altra buonissima dose di fortuna. Nella prima frazione l'autogol del calciatore bianco-rosso Sponda Monterosi fa felice i Galletti, sempre più primi e sempre più, verso la B. Un'altra autorete, quella di Sbraga, rovina i piani della Turris tra i veneziani di Monopoli. Colombo ribalta i partenopei passati in vantaggio con Fabiano. Prima pareggia Borrelli dopo pochi secondi dal suo ingresso, poi l'ex Avellino combina il patatrac finale. Biasci e Sounas si prendono il ceravolo e Vivarini la sua seconda vittoria di fila dopo quella conquistata a Catania. Piegato all'inglese il Picerno che dopo il capo interno contro la Turris sembra aver smarrito la retta via. La Virtus Francavilla sbanca il razza di Vibo Valencia per 2-1. Incredibile epilogo. Patierno porta in vantaggio i pugliesi dopo pochi minuti, poi dal 91 al 94 accade il reparabile. Pareggia prima Curiale, poi Cecio a due minuti dopo trova l'inaspettata rete per i Virtusini che restano così aggrappati al gruppone delle grandi. Al Barberi il Palermo di Baldini non riesce a abbistare la vittoria di pochi giorni fa contro il Monterosi facendosi rimontare nel derby dal Messina. Doppio vantaggio rostanero, Griffato, Brunori e Valente in gol al minuto 13 al minuto 41. Sembra fatta il Messina della prima frazione, non è sembrato pericoloso ma nella ripresa Raciti trova in Gonzaldez e Margini hanno due risorse importanti e pareggia una gara che sembrava ormai compromessa. Il Taranto non torna a gioire lo Iacovone, Giovinco Junior, dopo due minuti illude ragazzi di Giuseppe La Terza. Il campo basso di Cudini non riesce a sua volta a vincere la sua seconda gara di film trasferta dopo quella di Andria, ma grazie ad Emmausso si porta a casa un punto preziosissimo. La Fidelisandria di Ginestra torna invece a fare punti contro il Catania al Dei Urivi, finisce 1-1 in gol prima a Risolo per i Pugliesi, Prussotto nella ripresa salva Ietnei. E' ufficialmente entrata in crisi la Paganese, seconda sconfitta in casa consecutiva, per i ragazzi di Grassadonia. Gli azzurro stellati passano in vantaggio con Tomasini, ma poi Carletti e Dercolano in 10 minuti ribattono la contesa lanciando i puntini in piena zona playoff. Il Latina di Mister Didonato allo stato attuale è la squadra del momento.